buongiorno a tutti è con noi oggi Filippo Venturi autore del libro l'umido che ammazza terza avventura di un oste buco particolare un oste di Bologna esattamente come te tu sei uno ristoratore scrittore sei alla terza avventura del tuo alter ego Zucchini ed è un'evoluzione della specie direi questo libro perché è un pochino più pulp degli altri se non capisco sicuramente sì c'è addirittura un omicidio quindi sono stati indeciso fino all'ultimo se ammazzare o no poi ho ucciso e non mi sono pentito diciamo e pulp sicuramente è più nero anche se comunque lo considero una black comedy perché è un libro comunque spero divertente almeno io diciamo che sono divertito a scriverlo è più pulp perché comunque risente anche di una situazione storica in cui è ambientato cioè la terza settimana di novembre 2020 esattamente i giorni in cui ho cominciato a scriverlo e se come ricordiamo tutti ai noi l'inizio di quella che è stata la seconda ondata di covid se vogliamo la anche la più cruenta purtroppo e quindi diciamo che da sia da scrittore che da ristoratore e trasferendo queste sensazioni al mio appunto alter ego come l'hai definito tu Emilia Zucchini che è un host detective si sente un po' lo stato di avvilimento provocato non solo appunto dalle preoccupazioni sullo stato di salute ma anche da questa serranda che tornava ai noi a chiudersi ci sono due livelli di lettura di questo romanzo la storia il noir la storia gialla che poi magari ci racconti fin dove è possibile raccontare e l'altro le riflessioni del nostro Zucchini che già il fatto che si chiama Zucchini per essere un host è molto indicativo sulle sue riflessioni su come è cambiata anche la clientela tu hai una rubrica o avevi non lo so su un quotidiano nazionale in cui facevi il contrario delle agenzie di rating diciamo così beh sì ho questa questa rubrica che si chiama dietro al banco in cui in maniera assolutamente divertente senza rancore recensisco i clienti quindi ho un trip advisor al contrario diciamo parti molto divertenti quelle in cui dai un resumé della tipologia umana in particolare i protagonisti negativi di questo libro sono un gruppo di clienti arrivati lì per caso i cosiddetti milordini perché sono milordini? sono milordini perché fanno parte della Bologna bene sono abituati a essere trattati in una certa maniera ovunque al ristorante come nella vita milordini è un'espressione che a Bologna eh lanciò nell'allora presidente appunto del Bologna Calcio Giuseppe Gazzoni Frascara eh che definiva milordini questi tifosi della tribuna che erano sempre pronti a giudicare a criticare il Bologna e quando c'era da pagare il biglietto trovavano sempre l'escamotage per per entrare a gratis l'escamotage narrativo è questo Alice l'ha fidata cameriere di Emilio Zucchini non si presenta al lavoro cosa assolutamente non da lei e da lì eh appunto Emilio Zucchini è costretto ad andare a cercarle si trova in questa situazione un po' più un po' più grande di lui e quindi si ritrova coinvolto in questa vicenda che 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 sta accadendo a Bologna di questi eh professionisti che vengono uccisi eh più segue Alice più si ritrova invischiato in questa storia e quindi dovrà riuscire a ritrovare la sua fidata cameriera nel più breve tempo possibile scongiurare un suo coinvolgimento in questa storia ecco sui milordini si abbatte una vendetta terribile volevo in qualche modo cercare una vendetta e darla in mano alle donne ho cercato di mettere davanti in prima linea le donne che conosco meglio sostanzialmente che sono quelle che con cui condivido la mia vita professionale quotidiana quindi con le quali ho un rapporto appunto appunto molto intimo di lavoro insomma le cameriere le mie cameriere io io stesso sono cameriere non mi vergogno mica dirlo il poliziotto che si accanesce sempre contro il nostro vittoratore non ci fa per l'ennesima volta la bella rigore io ho un eroe che è Emilio Zucchini che non è un non è un poliziotto e quindi devo avere un antieroe che è il mio commissario iodice che non è mai diciamo così arguto come la tradizione del giallo italiano vuole anche se in questo caso devo dire che l'ho trovato un po' più in forma è un po' più sempre abbastanza impacciato e per certi versi ignorante però complice anche un appesantimento di Zucchini per i motivi che dicevamo all'inizio lui l'ho visto un po' più con un po' più di brio i tuoi amici poliziotti perché ne avrai mi capitano nel tuo ristorante cosa pensano nel tuo modo di affrontare nei tuoi romanzi poliziotti così non sveglissimi diciamo mi inginocchio in ansia loro perché devono devono perdonarmi è venuto così noi di questo libro consigliamo la lettura si tratta di l'umido che ammazza eccolo qui siccome la letteratura è un antidoto contro le storie della vita ci daresti due pillole di questo antidoto sotto forma di titoli di due libri nei quali consigli la lettura consiglio sicuramente città in fiamme di Don Wieslow che è un capolavoro assoluto nel secondo visto che comunque sono ospite per l'ennesima volta a Cremona una città che che adoro e che mi ha per certi versi adottato e dove torno sempre con grande piacere cito promemoria per il diavolo del mio grande amico Paolo Regina grazie per essere stato con noi alla prossima